ciao da federico oggi sono qui col primo monopatino prodotto dalla casa engue il modello è l'S6 l'ho utilizzato per diversi giorni nei miei tragitti casa lavoro l'ho trovato veramente comodo una doppia ammortizzazione sia all'anteriore che al posteriore una pedana bella larga un motore da 500 watt con una potenza di picco di 700 watt una batteria da 748,8 watt ora allora andiamo a vedere come si comporta su strada e su sterrato poi torniamo qui e vi faccio le mie considerazioni finali dopo diversi giorni di utilizzo abbiamo un acceleratore come negli scooter si riesce a dosare perfettamente la potenza e quindi fare una partenza lenta oppure veloce si può quindi dosare graduatamente la velocità per raggiungere quella massima dei 25 chilometri orari una pedana bella larga che consente di avere un'ottima posizione dei piedi anche un bel grip e quindi si ha il massimo controllo anche alla massima velocità dei 25 chilometri orari anche su fondo sterrato grazie alle ruote da 10 pollici una bella larghezza da 2,65 si ha un ottimo comfort gli ammortizzatori non hanno una grande corsa ma quella necessaria per riuscire ad affrontare percorsi off road in tranquillità e sicurezza vado ad affrontare adesso una salita del 5 per cento per vedere come si comporta anche in salita il monopattino la sua spinta è solo di 23 newton metro ma sono sufficienti per spingere il mio peso più quello dello zaino 85 chili più 8 chili di zaino quindi superiamo i 90 chili sono in una salita del 5 per cento in questo momento sto andando ai 21 chilometri orari 19 la velocità sta scendendo questo tratto leggermente più ripido 18 la batteria carica al massimo riesco a superare questa pendenza senza nessun problema sono in una salita con una pendenza maggiore all'incirca il 10 per cento sono i 10 chilometri orari nel sito è garantita una salita del 15 per cento penso che con pesi inferiori con persone del peso di 65 chili 15 per cento è fattibile con questo monopattino vado a testare adesso l'efficienza dei freni vado a prendere un po di velocità qua c'è una leggera discesa e anche un gattino sono a 20 21 25 chilometri orari adesso il motore va a staccare 30 chilometri orari provo una frenata bella potente con entrambi i freni freni meccanici una bella frenata graduale ci si ferma in sicurezza quindi anche dal punto di vista della frenata mi soddisfa andiamo a vedere le sue caratteristiche specifiche una pedana di una lunghezza di 45 centimetri e 22 centimetri di larghezza mi ha sempre permesso di avere un'ottima stabilità e controllo con la corretta posizione all'interno della pedana dei freni meccanici sia all'anteriore che al posteriore consentono una buona frenata anche in discesa graduale sempre molto fluida e ci si ferma veramente in poco spazio altro punto di forza sono il sistema di ammortizzazione sia nella parte anteriore la forcella è ammortizzata sia in quella posteriore dove si trovano due ammortizzatori meccanici a molla hanno una piccola escursione solo di qualche centimetro ma consentono sia in città sulle strade un po dissestate sul pavè oppure anche sui san pietrini di avere un ottimo comfort quel minimo di ammortizzazione che permette di assorbire quelle buche più leggere anche su un leggero fuoristrada in strade bianche comunque uno sterrato in buone condizioni grazie alle sue ruote da 10 pollici e 2,65 pollici di larghezza si comporta molto bene c'è la possibilità di regolare anche l'altezza del manubrio per le varie altezze comunque non va mai tenuto troppo alto il controllo del monopattino avviene con i piedi quando si è in frenata si andrà a spostare il carico verso il posteriore in modo tale che il monopattino avendo una leva così lunga non vada a impennare in accelerazione invece si andrà a posizionare il carico nella zona centrale del monopattino in modo tale da avere la maggiore stabilità anzi avanzato un po verso l'anteriore l'autonomia dichiarata dalla casa sono di 60 chilometri io col mio peso di 85 chili sono riuscito al massimo a raggiungere i 40 chilometri di autonomia la casa ha deciso di mettere un limite massimo di 25 chilometri orari anche se in città la velocità massima permessa è di 20 non ci sono tasti fisici per andare a regolare comunque cambiare questa impostazione in salita sono riuscito a fare al massimo pendenze del 10 per cento con il mio peso penso che con pesi inferiori di 65 70 chili si riescono ad affrontare salite del 15 per cento come dichiarato nel sito della casa produttrice punto di forza e l'illuminazione troviamo un faro anteriore e un faro posteriore qui al di sopra del paraffango con un sensore di stop quando andiamo a premere la leva del freno andrà a illuminarsi una seconda luce più potente inoltre c'è un led sulla parte laterale della pedana rgb quindi andranno a cambiare colori e renderà il monopattino visibile anche nelle ore serali a norma con le nuove regole vigenti dal gennaio 2024 troviamo due belle frecce con un bel sistema di illuminazione qui al laterale per essere visibili quando si va a fare una svolta il peso massimo dell'utilizzatore può arrivare fino a 120 chilogrammi con un meccanismo all'anteriore si può andare a piegare il manubrio l'operazione è semplice e veloce si va a agganciare un secondo meccanismo che va a bloccarlo il suo peso è di 25 chili non è leggerissimo ma comunque si riesce a trasportare tranquillamente se utilizziamo anche dei mezzi pubblici come il bus o il treno li si possono caricare facilmente anche nel bagagliaio dell'auto l'indice di impermeabilità è ipx 4 vuol dire che può resistere sotto una pioggia leggera non va lasciato sotto la pioggia e non può neanche essere immerso il display presente chilometri parziali la velocità alla quale stiamo andando e 5 tacche che vanno a indicare la carica della batteria ogni tacca un 20 per cento questo è l'effetto che si ha al buio delle luci del monopattino che lo rende veramente molto visibile nelle ore serali e questo invece è il sistema molto bello esteticamente delle frecce anche posteriormente si vedono gli indicatori dispone di un acceleratore come negli scooter non abbiamo quindi come in altri modelli l'acceleratore a pollice o a grilletto lo trovo un ottimo sistema per riuscire a dosare in modo graduale l'accelerazione un po più scomodo per quando si va a azionare la leva del freno tre interruttori uno serve all'accensione e lo spegnimento del faro anteriore quello posteriore si attivano anche i led laterali un interruttore per le frecce destra freccia destra sinistra freccia sinistra e un clacson elettronico per l'accensione del monopattino vengono date due chiavi basta andare a ruotarla per avere l'accensione del display che non presenta tasti fisici e abbiamo l'accensione del monopattino c'è la possibilità di piegare anche il manubrio per ridurre gli ingombri una ghiera da tirare serve una certa forza dopodiché il manubrio va a ripiegarsi e questo è l'ingombro finale il faro anteriore presenta quattro led con una buona illuminazione un fascio non molto esteso ma in un punto unico come generalmente i fari che troviamo su queste tipologie di monopattini avrei preferito una luce posizionata leggermente più bassa nel parafango per essere più visibile alle macchine che seguono o comunque ai mezzi dietro di noi è presente un cavalletto che sorregge tranquillamente tutto il peso del monopattino lateralmente si trova anche l'attacco per andare a collegare il caricabatterie protetto da un gommino gli ammortizzatori sono stati precaricati abbastanza rigidi ma che consentono da tutire gli shock dovuti alle buche in modo abbastanza fluido i suoi difetti avere preferito dei bussanti fisici per andare a regolare la velocità massima o almeno un app in modo tale da poterla tarare 20 chilometri orari come stabilito per legge la sua coppia massima di 23 newton metro è sufficiente per muoversi in città e anche in salita avrei preferito qualche newton metro in più per salite più pendenti un monopattino che mi ha soddisfatto per il suo rapporto qualità prezzo i componenti utilizzati sono di buona qualità il doppio sistema di ammortizzazione all'anteriore e al posteriore è molto valido quindi anche quando andiamo a affrontare delle strade non in buone condizioni abbiamo il massimo controllo grazie anche a questa pedana molto larga nell'insieme dopo gli ultimi aggiornamenti che sono stati fatti dopo l'uscita del monopattino per correggere alcuni difetti come l'autonomia e la velocità massima è un monopattino che andrei ad acquistare per i miei tre gitti casa lavoro fare delle commissioni oppure in quei spostamenti tramite treno monopattino o bus monopattino perché comunque non è così pesante 25 kg non sono tanti anche se ce ne sono di più leggeri nel mercato e comunque le sue dimensioni ridotte sia in lunghezza sia quando si va a ripiegare su se stesso e la possibilità di piegare manubrio sono un vantaggio per la sua trasportabilità in descrizione vi lascio il mio codice sconto alla prossima recensione al prossimo video ciao da federico